Abbiamo appena ascoltato il direttore generale dell'ASL di Terra, Maurizio Giosia, che giustamente non è entrato nell'aspetto tecnico perché non gli compete, però gli compete anche un'analisi, quella veritiera, quella dei fatti. Noi siamo abituati a sentire il linguaggio del Covid per corsi alternativi, come per esempio nel lab vaccinale dell'università, dove c'erano entrate e uscite dedicate agli studenti, entrate e uscite dedicate al personale, entrate e uscite dedicate al personale del docente. E poi ovviamente l'ala destinata alle vaccinazioni, con tutti i compartimenti stagni ben precisi, con tutte le postazioni. Il nuovo hub vaccinale, dove dovrebbe sorgere la cittadella della ricostruzione, si trova al Parco della Scienza. Il Parco della Scienza è un luogo importante per quanto riguarda la gammarana, però è stato suddiviso male, nel senso che era già occupato. Come si fa ad entrare in un posto già occupato? È impossibile. È impossibile creare quei percorsi senza che siano utilizzati e consumati da altre persone, come per esempio l'Istituto ITS, dove ci sono i ragazzi alle mie spalle che fanno i corsi, come per esempio il Consiglio Comunale alla mia sinistra, dove ovviamente ci sono i consiglieri comunali, dove c'è il Sindaco, dove c'è tutta la Giunta, come per esempio l'archivio, l'archivio utilizzato per la ricostruzione all'ufficio tecnico e c'è un andiriviene ovviamente di impiegati. Era secondo voi questo il posto ideale per fare il hub vaccinale? Tecnicamente, secondo noi, no.